Vogliamo dare una risposta a tutti quelli che pensano che a Meridione ci sono solo dei panolloni. A Meridione ci sono persone con tanta dignità che purtroppo hanno avuto la sfortuna di non avere un posto di lavoro. Grazie a questo reddito di cittadinanza possiamo fare la spesa e mantenere la nostra famiglia. E ci è sembrato giusto e doveroso non stare fermi con le mani in mano ma darci da fare per la collettività. Abbiamo anche qua dei volantini appunto per presentare e far capire alle persone quanto è importante la differenziata. Siamo tutta gente che percepiamo il reddito di cittadinanza. Quindi il nostro motivo principale è che non vogliamo sentirci inutili. Essendo che non abbiamo molto da fare, vogliamo darci da fare appunto nella nostra città stessa, cominciando da ripurirla. Sono autista volanziere all'avete. Poi la ditta è fallita e sono a spasso. E quello che capita faccio. Io ero nel campo edile e purtroppo il lavoro non è che sia una grande massa, quindi ho dovuto fare il reddito di cittadinanza proprio per questo motivo. A sette anni che sono un disoccupato perché Palermo sempre non dà niente. E purtroppo, anzi ringrazio a chi ha avuto il pensiero di dare la cittadinanza, il reddito di cittadinanza. E così abbiamo soffritto di avere dignità di comprare un saponetto ai bambini per portarli a scuola. Perché è giusto che devono vivere nella società. Ed è giusto, è un dovere che devono aiutare a tutti i figli di mamma. Perché siamo tutti in mezzo alla strada. Se non c'era il reddito di cittadinanza eravamo tutti rovinati.